Propongo la menzione giovani e futuro per l'organizzazione della formazione in azienda rivolta ai giovani per l'Accademia Prodotto di Bricoman Italia. Li vediamo sul palco. Vieni qua Vivian che accogliamo i nostri premiati, gli diamo il riconoscimento. Grazie, posso appoggiare a te il microfono? Buongiorno. Una foto in favore dei fotografi, grazie. Grazie mille, vuoi dire una parola? Sì, in realtà il nostro progetto è molto semplice, nel senso che abbiamo organizzato una raccolta dei bisogni formativi dei giovani, esatto. E quindi questo ci ha permesso comunque nel tempo di poter creare delle formazioni ad hoc, quindi basate non sull'offerta formativa che magari noi dall'alto potevamo offrire per l'appunto, ma cucita sulle esigenze. Esatto, semplice ed efficace. Molto bene, è proprio quello che si auspicherebbe che succeda in ogni contesto aziendale ovviamente. Esattamente. Complimenti ancora. Grazie. Presto.